15 spazi riservati in città alla fissione dei manifesti elettorali, ma sono tutti praticamente semivuoti. E' uno spreco inutile che a Sulmona si aggira intorno ai 20.000 euro, per circa un euro a persona. A farlo presente è il presidente del Consiglio Comunale, Nicola Angelucci, che non trova coerenza nell'applicazione. Come dire, più la spesa che l'impresa, in quanto l'attuale legge elettorale, che non consente di esprimere i voti di preferenza, ma solo al partito, induce molti candidati a non far uso dei manifesti. A cosa servono se già si sa chi potrebbe essere eletto e chi no? Si chiede Angelucci. Con un sistema di legge come questo, che praticamente nomina i parlamentari e quindi non li fai legge dal cittadino, non capisco come mai il suo stesso cittadino poi debba pagare uno spazio di propaganda elettorale che praticamente per la città di Sulmona ha il costo, in questa circostanza, di circa 20.000 euro. E' come se ogni cittadino di Sulmona elettore avesse contribuito in questo momento per un euro. Questo mi sembra anche un costo altamente impattante in quello che è l'economia e il momento, perché se in Italia votano circa 40 milioni di elettori, che significa che stiamo spendendo solamente per questi tabelloni pubblicitari 40 milioni di euro, quindi ci sono dei costi che si possono ridurre. Nei costi rientrano anche le spese per le cabine elettorali all'interno dei seggi. Oggi, da un'osservazione attenta in città, questi spazi elettorali sono coperti all'incirca, ma un dato di stima molto fiducioso è intorno al 15%, che significa che è uno strumento che non viene utilizzato, perché nessuno ha convenienza dei candidati a spendere soldi per fare una propaganda elettorale, perché la propaganda elettorale gliela fa la lista nazionale, gliela fa praticamente il partito di appartenenza. Poi tutti sanno chi verrà eletto e chi non verrà eletto, per cui non conviene spendere in propaganda elettorale né a chi verrà eletto, né tantomeno a chi non verrà eletto. Nella nostra città, quindi a Sulmona, sono stati individuati 15 spazi per apporre gli manifesti, 15 punti, che sviluppano quasi un chilometro lineare di tabelloni, ma questi tabelloni non vengono assolutamente utilizzati. Per cui mi sembrerebbe ovvio che fino a quando la legge elettorale non permette al cittadino di scegliersi i propri candidati, che siano i stessi candidati a pagarsi questi spazi per partecipare a una competizione dove il cittadino è escluso. Quando la legge elettorale ridarà praticamente al popolo la sovranità del voto, allora si potrà pensare ad altri strumenti, ma sempre riducendo questa forma di comunicazione, perché mi sembra nel 2013 abbastanza obsoleta.